Grazie Presidente. Presidente, come lei sa, come lei sa bene, io sono un soggetto immunodefedato, cioè vuol dire immunocompromesso. Presidente, mi vede parlare con la mascherina, per le ovvie ragioni, come sa, anche lei appartiene alla mia stessa regione, la regione che è stata fortemente limitata, asili nido chiusi, scuole chiuse. Presidente, vede, io con questa mascherina, la mascherina, chi la indossa non fa male a nessuno, però che cosa succede? Che questa mascherina, visto che ero nei limitrofi di Lodi, Lodigiano, dove c'è un fulcro, io la sto portando a tutela vostra, non mia, vostra, perché questa mascherina permette a voi di convivere con me che ero là, solo che frasi che adesso le dirò io non le accetto perché sono date da ignoranza e mi dispiace, persone che non sanno, del tipo, ma non stai bene? È carnevale, sei mascherato pure te? Guarda che non è ancora carnevale, il carnevale è il 5, no, lo dico per i colleghi. Vedo il reparto di malattie infettive, perché mi hanno visto con un collega, dottore, dottoressa, super specializzata, che queste cose le sa bene. Oppure, guarda che ti fa male, la mascherina ti fa male, toglila. Presidente. E poi ancora altre, vedo che vi state rincoglionendo tutti. Presidente, non è colpa mia, però io le riporto ciò che mi hanno detto. Io facendo del bene a loro, facendo del bene a loro, cioè sono passati 2000 anni di storia e chi fa del bene viene preso in giro. Io vorrei rispedire a loro il messaggio, cioè io questa mascherina la tengo per farvi a voi un favore, non a me. Se io mi tolgo la mascherina siete voi a essere intorto. Grazie. Ha chiesto di intervenire la deputata.